Ciao a tutti! Innanzitutto vi volevo ringraziare per quelle bellissime giornate passate insieme durante le prove, ci siamo già visti noi. E niente, sono qui in realtà per chiedervi scusa del fatto che non potrò esserci al vostro evento perché sono un po' in giro per lavoro, però con il cuore sono lì con voi. E appunto per questo, questo video parte per ringraziarvi, per farmi il mio grande bocca al lupo, per ringraziare la fondazione Leo Amici per l'invito che mi avete dato. Io vi mando un bacio gigante, un abbraccio fortissimo pieno di energia e di positività e continuate così in bocca al lupo. A presto!